Benvenuti per ritrovare all'ascolto di Elisa Fontana in un nuovo appuntamento di emersione. Oggi vi vogliamo raccontare di un progetto musicale che nasce dall'unione tra Emanuele Bassetto e Alice Cucco nel 2018. Loro sono i LOLOV e quindi do il benvenuto a Emanuele. C'è Emanuele, grazie di essere con noi. Ciao, grazie a voi per avermi invitato. Abbiamo detto che la collaborazione tra te e Alice nasce nel 2018. Come nasce il vostro progetto musicale? Il nostro progetto musicale nasce l'anno scorso. Ho chiesto ad Alice di provare a cantare con me dei pezzi che ho scritto nel corso degli ultimi anni. Sia io che Alice abbiamo esperienze musicali differenti. Io ho fatto una piccola carriera da solista e lei anche. E l'anno scorso abbiamo deciso di cantare insieme. Voi avete deciso di cantare insieme e avete già pubblicato il primo singolo che è Vendetta. Emanuele, cosa ci raccontate con questo pezzo? Allora, Vendetta è il singolo che anticipa l'uscita del nostro EP, che uscirà brevissimo. È già pronto, realizzato ed è in fase di pubblicazione. Vendetta in particolar modo è una bellissima canzone, dico io, romantica, d'amore, una ballata, che parla di una storia, come dire, d'amore un pochettino tormentata. Quindi una vendetta d'amore. Addirittura siamo stati un po' diciamo protagonisti o comparse spesso delle vendette d'amore. Quindi sarà un brano in cui sicuramente tanti tanti radioscoltatori potranno ritrovarsi. E come dicevi tu, anticipa il vostro primo EP che è quasi pronto. Quindi io ti voglio ovviamente chiedere se puoi darci qualche anticipazione rispetto a questo lavoro. E se vuoi segnalare ai nostri radioscoltatori quali sono i vostri canali social per poter cominciare appunto a ascoltare intanto Vendetta e poi il resto dell'EP. Certo, allora i nostri canali social abbiamo Facebook come LoLov, Instagram e abbiamo questo canale YouTube dove in questo momento è pubblicata l'official di Vendetta. E ripeto, a brevissimo perché il lavoro è già finito, quindi in fase solo di pubblicazione ci troverete su tutte le piattaforme digitali, quindi Spotify e tutte le piattaforme con il nostro EP. Perfetto. Emanuele, io ti devo assolutamente ringraziare per il tuo tempo e per la tua disponibilità per essere ovviamente stato con noi. Voglio ringraziare sia te e chiaramente stendi ringraziamenti e anche i saluti ad Alice e ovviamente a tutti e due. Un grandissimo in bocca al lupo. Crepi il lupo. Grazie ancora Emanuele dei Ilorov e io vi do appuntamento alla prossima intervista dopo aver ascoltato Vendetta. Alla prossima!